E' sicuramente un grande piacere per noi di Electric Motor News poter presentare questa vettura, una piccola Mitsubishi che sarà a disposizione per il mercato giapponese in pochi anni e che secondo alcuni dati potrebbe essere anche disponibile sul mercato europeo anche in alcuni anni. E' una vettura completamente elettrica della quale vedremo alcuni particolari in questo prossimo servizio. Realizzata sulla base di una minicar, la Mitsubishi IEV rimpiazza il motore convenzionale ed il serbatoio della benzina con un pacco batterie a litio-ion, un motore elettrico, un inverter e altri componenti propri dei veicoli elettrici. Il passo lungo e la carreggiata larga permettono di alloggiare senza problemi il pacco batterie a litio-ion sotto il pavimento. Lo spazio per installare il motore elettrico e gli altri organi vitali viene ricavato nel posto dove viene alloggiato il motore a scoppio convenzionale. Una vettura Mitsubishi IEV assicura quindi un ottimo spazio per ospitare quattro persone ed un bagagliaio con capienza ragionevole nella parte posteriore. L'installazione delle batterie sotto il pavimento permette di avassare il centro di gravità della vettura con la conseguente ottimizzazione della stabilità e maneggevolezza del veicolo. Le batterie della Mitsubishi IEV è un pacco composto da 22 moduli a litio-ion da quattro celle ciascuno. Ogni modulo può essere alloggiato sotto il pavimento sia in posizione verticale che in quella orizzontale e l'autonomia dichiarata è di 160 chilometri. E come sempre nel nostro programma Electric Motor News noi parliamo di veicoli ecologici, di energie alternative come questa BMW a idrogeno che abbiamo qui dietro di me. Ed è così che con questa immagine noi per il momento ci salutiamo e vi aspettiamo la settimana prossima sempre in questa rete a questo orario con Electric Motor News, il primo e unico programma italiano dedicato alla mobilità alternativa ecologica. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.